Buonasera, per farvi capire. Sono Antonio, vengo dalla Puglia e sono un millennial. Quanti altri millennials ci sono in sala? Millennials pochi, ignoranti, tanti. È colpa però delle telecronache della RAI, che per qualche motivazione di propaganda massonica stanno cercando di convincere gli italiani che i millennials sono quelli nati dal 2000 in poi. Non è così. I millennials sono tutti quelli nati tra l'inizio degli anni 80 e la fine degli anni 90. Perciò, quanti millennials ci sono? Siete un po' di più. Per chi non ci conosce, siamo quelli di solito collocati con sindrome di Peter Pan, i primi ad aver fidelizzato con le nuove tecnologie, e quelli che per un motivo o per un altro sono stati costretti a imparare la lingua inglese. A differenza della generazione dei miei genitori, della generazione dei genitori di molti millennials, entrambi nati all'inizio degli anni 60, almeno i miei, che, di stagione dell'inglese, hanno potuto farne a meno. Sono stata l'ultima generazione che ha potuto farne a meno. E la cosa è simpatica perché crea, almeno il fatto che i miei genitori non sappiano una, parola una in inglese, tutta una serie di scene comiche da non sottovalutare. Qualche giorno fa mia madre torna a casa e mi dice Anto, vedi che bella la maglia che ho vinto a giocare a burracco? Allora, sta maglia, nera, con sta scritta caratteri cubitali, too drunk to fuck. Al che le ho detto Major, sai cosa c'è scritto sulla tua maglia? No, che c'è scritto? E io volevo dirle che ce l'ha scritto che era troppo ubriaca per scopare, però poi ho immaginato la scena di mia madre a spasso nella città che mostrava a tutti orgogliosa la sua nuova t-shirt. Buongiorno bambini, buongiorno figlio della mia migliore amica laureato in letteratura inglese, buongiorno padre Brown. E quindi, non so perché, abbiamo un padre Brown, Tommaso Brown a Barletta. E perciò gli ho detto che ce l'ha scritto che Dio ci ama tutti ed è sempre con noi. E mia madre la sfoggia sotto il tagliore, ora le comunioni, i battesimi, se andate sul mio Facebook potete vedere e questa simpatica scena mi ha fatto venire in mente di fare un esperimento che ho fatto, ve lo consiglio a voi, cioè, fatelo tutti perché avrete delle belle sorprese. Andate a cercare le fotografie di quando eravate bambini e vedete le magliette che avevate voi, che i vostri genitori avevano comprato, che ho scritto in inglese o in altre lingue, senza sapere cosa volessero dire. Io, tra le mie, ho trovato delle cose fantastiche. Suck my cock, bitch. Duran Duran is the best rock band in the world. No, non ce l'avevo davvero. I ate all the fucking niggers. Penso tutte acquistate alla stessa bancarella del Ku Klux Klan, credo. Per riagganciarci al fatto di odiare i fottuti di negri, ho notato che hanno, cioè ho notato, su Netflix, hanno messo American History X. Chi ha visto American History X? Perché è bello? Perché è passato alla storia, per chi non l'ha visto, è un film degli anni 90, è passato alla storia come Kalt per essere uno dei film più incisivi nel lanciare un messaggio antirazzista. E rivedendolo mi sono accorto che è un film fottutamente razzista in realtà. Cioè, per chi non l'ha visto, qui non l'aveva visto quasi nessuno, avete avuto vent'anni di tempo, quindi ora ve lo spoilero, non dite, no, proprio domani, volevo vederlo. Cioè, Edward Norton, conosci Edward Norton, signora, l'attore Edward Norton, Fight Club, 25esima ora, palestratissimo, che interpreta un nazi skin che finisce in carcere per aver ammazzato un nero e in carcere viene inculato da altri nazisti perché lui li accusava di essere meno nazisti di lui, quindi perde la protezione dei suoi ex compagni e viene salvato e riesce a passare indenne gli altri anni di carcere grazie all'amicizia fatta con un ragazzo di colore che lo protegge in modo che lui esce dal carcere e si accorge che il razzismo è una stronzata. Va da suo fratello minore, anche lui nazi skin nel tentativo di emulare il fratello maggiore, gli dice è sbagliato essere razzisti perché poi ti inculano nelle docce. Il fratello ci ragiona, fa ci sta, ci sta, ci sta, smettono di essere razzicchievi, ha detto bello? Non ti vedo? Tu, come finisce il film? Il tuo film preferito. Bellissimo, cioè non ricordi il finale, una parte totalmente poco significativa di un film. Finisce con il fratello minore che torna a scuola e un nero gli spara in faccia. Che non mi sembra il messaggio antirazzista migliore da dare alla fine. È come se Schindler's List, l'abbiamo visto tutti? Giornata della memoria. Schindler's List, se vi ricordate la scena finale dove ci sono i discendenti delle brise lavati da Schindler che vanno a portare la pietra sulla tomba di Schindler in segno di ringraziamento. È come se durante quella scena Spielberg girasse la macchina da presa e ne inquadrasse un altro che si sta a frecare i lumini sopra le altre... Non si fa!